Finta di corpo manda a vuoto della valle Poi va centralmente verso Iling La possibilità per il mancino che golla Iling, in piccolazione miacconera Va a sfidare Zanotti Nell'Iling, grande giocata Iling in area di rigore Iling prova al 3 E' via! Da rigioca in avanti Ok Iling Junior Sterzata, doppia sterzata Iling Junior! In mezzo, colpo di testa Ancora Samuelini Junior Insiste Iling Prova ad andarsene, resiste Crozzi in mezzo Per il ballo, bravo! Da solo, cerca la sua mattonella Poi è costretta a cambiare Sull'altro versante Dov'è pronto? Iling Zona a tiro Iling! Deviazione! Niente, Barrenecea Punta la porta Va a sinistra per Iling Vuole il pallone da Grakka Iling dentro da Grakka Uno a tre Importanti in questa stagione Per il barriamo Chiaramente c'è anche Il filtro dell'Under 23 Importante Va Iling Pallone nel mezzo Uno a due Viene però raddoppiato Viene recuperato da Turicchi Allora Iling Junior Salta via E' un aspetto importante Poi lui ha fatto anche il gol decisivo Viene il primo gol Che gol da Signora Nicolini Della sezione di Brescia E' stato Assolutamente uniforme E' costante In questo avvio Nicolosa perché Ci sono pochi attaccanti In questo campionato Che difficilmente Riescono a superare Devi entrare a Riccio In questa A cercare la corsa di Iling Aria di rigore Iling Viene ancora dentro E dal momento che fai Quel tocco in più Hai dato la possibilità Ai difensori della Juve Di Grande avverture Intanto Iling Junior Va via Ancora Iling Junior Mette il pallone in mezzo Bonetti Chiamava la Savona La riceve al centro campo E poi prova ad impostare Lo fa bene Grande giocata di Iling Junior Che si presenta al limite Dell'area di rigore Iling La deviazione Le centrali Come fa Cibozzo e Sule Come fanno loro Forse potrebbe essere Una soluzione Progressione Intanto scusami Che punta Flamingo Kiboso allarga Ancora per Iling Iling ritorna Da Kiboso Ferma Ferma Il tiro non è potente Occhio da Asa Asa fino in fondo Iling Eccolo Vediamo Asa come è bravo A mantenere il possesso palla Per poco non arriva, il gol del 2-1 Juve Hilling Junior, ancora Hilling, prova a sgusciare via All'altra c'è Cherry, dentro per l'inglese Può calciare col mancino, lo fa e il pallone Guai e quindi Hilling Da giocare Elinga, crossa, dentro per moremo La palla è buona, Bonetti Hilling Junior Avanza Hilling Junior Sa della natura Hilling Junior Ribattuto alla fine, Kotter Hilling Junior, salta un uomo, poi calcia palo Ancora Hilling, crossa un secondo palo, Paguna Si corti, fondo, scarico, Leo Può andare a cross, lo effetto sul palo più lontano Hillinga Villa, questa volta chiuso in maniera regolare Dall'Uricchia Hillinga Palla in verticale, ancora per Amulazzo Giaco prende posizione Ne ha due addosso Riesce comunque ugualmente a seguire il compagno Attendo un po' più di calma Occhio a Hilling Junior Può andare uno contro uno Che si è già fatto da doppio Ancora Hilling Junior Guadagna il fondo La mette in mezzo Buon pallone Ad anzannare Ecco secolo Non si alza la magherina Secolo e di mezzo Con Hilling Junior Lecce che prova ad uscire Ma c'è Hovich E poi Hilling Che adesso si è preso alla sinistra Lasciando Kibozo verso la destra Ah si Da una parte Lecce che prova ad uscire 11 metri più là C'è Andonov Prova a puntare Sidibe Doppio passo dell'ex Chelsea Che prova ad entrare in area di rigore Ma sul fondo ancora Il cross di Hilling Sul secondo palo Bangula di testa Nuovamente Assedio e aria invata Nuovamente Hilling In posizione regolare Secondo Zezza Scappa via E poi punta l'aria Nuovamente Hilling La discesa Il pallone in mezzo Nuovamente Hilling Uno Attenzione però La rezza del Juventurco Dall'altra parte La parte vuota La parte vuota Hilling La pareggia La Juventur Ma l'altro è ovviamente Ma l'altro è che non c'è Odmissiamo A tymczasem Anglicy Z pierwszym atakiem Samuel Iling Jr Iling Jr Ograł Jerzego Tomala Za kilkiem on To parte Ilinga All'angolo Vera E' la E' la E' la E' la La differenza in questa categoria E' l'oraccio Della difesa della Spalma La Juve non è riuscita Ad approfittare Adesso Iling Jr È andato via Attenzione Il pallone centrale Per Kiboso Che può calciare Si sposta il pallone Su sinistro Palla dentro Per il Lee Jr E c'è il vantaggio Della Juventus Il vantaggio A 250 persone Quindi Il giungo Le ha messo Tiene giù il pallone Cookie Via via Iling Jr Della panchina Per cambiare Qualcosa dal punto di vista Tattico Iling E' apre per Iling Allora occhio All'uno Contro uno Salta Pazza con il doppio passo Mette dentro La finta di In Bangalore